Il dottore si affeziona alle persone che ci sono nel paese, c'è anche una ragazza molto bella. L'unica ragazza della sua età che non abbandona il paese e arriva già Luca e comunque non è proprio in età da buttare via. È uno di quei rapporti un po' come quando ti capita magari da ragazzino di andare in vacanza e vedi che c'è quella lì che è un po' quella lì bella che tu sai che finirà che voi due starete insieme. Mi potresti indicare un ristorante di cortesia. Veramente ce n'è uno solo? Certo è difficile perdersi in un posto così microscopico. Belle le rose. Vedi questo è l'inizio di Anna, no? Adesso Anna è molto chiusa, invece poi alla fine sorriderà grazie all'amore. Grazie.